o eccomi qua e che bello poter fare un video all'aperto buongiorno a tutti allora questo è un video a sorpresa perché devo annunciarvi una cosa che mi onora moltissimo allora voi potete sapere che dalla creatività di Mariella Calcagno io e Dario Nincini che sono due coach, due relatori meravigliosi oltre che la scuola di costellazioni quantiche e altre meraviglie sono entrambi gli scrittori è nato anni fa un evento molto particolare, questo evento molto particolare si chiama Sticazzi Festival certo che il nome del festival può lasciare un attimino così spiazzati o sembra una provocazione in realtà non lo è, o meglio è una provocazione positiva come tutte le provocazioni consapevoli e Mariella e Dario quest'anno fanno la seconda edizione a Salso Maggiore Terme in provincia di Parma e dovete sapere che mi hanno invitato come relatore e io sono veramente onoratissimo di far parte della squadra che in quei due giorni vi allietterà sicuramente lo Sticazzi Festival trovate proprio su www.sticazzi.it, non abbiate timori a digitarlo, non vi succede niente, troverete e si sta man mano formando il programma del festival, poi c'è una parte dedicata alla prima edizione, allo spirito dell'iniziativa eccetera eccetera, quindi il 5 e il 6 maggio, sabato e domenica, già ci sono nomi veramente che mi emoziona solo di solo parlarne, Ivan Nossa, Giorgia Sitta eccetera eccetera, e quindi 5 e 6 maggio sono un sabato una domenica, Sticazzi Festival, cercate anche Mariella Calcagno e Dario Nencini e ci sarò anch'io, comunque vi darò altre info ovviamente man mano, intanto mi godo la meraviglia di questo guisardino, ovviamente sta fiorendo piano piano tutto, vi mando a vedere il mio ciliegio Sakura, famoso, in realtà è famoso davvero, ha messo leggende, quindi siamo a buon punto, la primavera sta arrivando, ciao a tutti e quindi a presto, vi ricordo 5 e 6 maggio sti cazzi festival, sti cazzi.